Ci siamo e non era scontato in questo 2020 così particolare poter dire che mettere in campo la nuova edizione del Festival sarà, sarà con un formato diverso a ottobre, 15 giorni, 10 giorni circa consecutivi, quindi una forma molto più compressa, molto più festival che così vuole anche essere un'occasione per le compagnie che vengono da fuori di fermarsi qualche giorno, vedere i lavori degli altri ma anche conoscere meglio il territorio, quindi un'opportunità che in realtà raccogliamo un invito che spesso in passato ci hanno fatto le compagnie di essere più presenti qua a Pesaro per conoscere anche il lavoro degli altri ma soprattutto per promuovere il nostro territorio. Tutti i nostri soci sono un centinaio, i soci degli amici della prosa, sono gli appassionati di prosa della città di Pesaro e da molti anche da fuori città e sono l'anima vera di tutta questa manifestazione, sono coloro che durante l'anno sono appassionati, ricercano nuovi spettacoli, le nuove iniziative che si svolgono in tutta Italia e cercano di approfondire, di gustare il meglio del teatro realizzato in Italia. Davvero bisogna fare un plauso a queste persone perché molte magari in febbraio-marzo non sapevano che fare, quindi si sono studiati i copioni delle opere teatrali, ma poi in luglio-agosto quando abbiamo dovuto lavorare magari molti avrebbero preferito andare al mare, invece si sono impegnati per realizzare anche questa 73esima edizione del Festival. Ad ottobre arriva il Festival, come cambierà la fruizione di uno spettacolo teatrale per il pubblico? Sulla base della normativa attuale i posti a teatro sono pochissimi, parliamo di 180 posti, 200 posti, quindi la normativa prevede che si vada nei palchi e che non si utilizzi la platea, tra l'altro la platea come sapete per il ROF è stata coperta interamente da una pedana e quindi se verrà mantenuta la pedana magari potremmo utilizzarla non essendoci l'orchestra nel nostro caso, potremmo utilizzare per qualche posto in più, altrimenti due posti per ogni palco e niente di più, quindi probabilmente con gli abbonamenti si finirà di riempire i posti disponibili, ma incorciamo le dita. Novità, compagnie che ritornano, ci sono compagnie storiche, compagnie che sono state qua di recente, ma anche compagnie che vengono qua a Pesaro per la prima volta. Scelte assieme a Giuseppe Sposti e Hortensio Rivelli che con me hanno fatto parte della commissione selezionatrice, abbiamo la gabbia figlia di Notaio, dei cattivi di cuore, presente anche l'anno scorso a Pesaro, una compagnia di imperie che porta in scena il testo di Stefano Massini, il tavolo verde della compagnia teatrale Maschere, anche loro presenti a Pesaro lo scorso anno, una compagnia di opera per un testo per la regia di Nadia Bruno. Abbiamo poi Senza Hitler, il primo debutto di quest'anno, compagnia degli evasi, sempre di La Spezia, con un testo di Edoardo Erba e la regia di Alessandro Vanello. Un altro esordio è la compagnia Linea di Confine di Roma che porta in scena un monologo dedicato alla vicenda della Signora delle Camelli e poi Violetta della Traviata, Amami quanto io tamo, per la regia di Roberto Belli. Proseguiamo con un altro spettacolo che strizza l'occhio, o l'orecchio se vogliamo, alla musica perché è un ritorno, la compagnia Colpo di Maschera che era stata presente qua con lo spettacolo Avigevano si spacca, dedicato a Rino Gaetano, questa volta si presenta a Pesaro con Il sogno di Domenico, dove Domenico è Domenico Modugno, quindi ancora uno spettacolo che ha un chiaro riferimento musicale per la regia di Mimmo Capozzi. Poi una compagnia storica, tante volte presente a Pesaro, che ha anche vinto, è la compagnia teatrale La Trappola di Vicenza che presenta uno spettacolo di commedia dell'arte, le mirabolanti fortune di Arlecchino e per i pezzi dei comici dell'arte, per la regia di Pino Fucito e per finire con Uome e Galantuomo di Edoardo De Filippo, della compagnia Associazione Culturale Teatro degli Oscuri che torna a Pesaro dopo diverse partecipazioni e per finire la grande occasione di Teatro De Gard di Giardini in Axos Messina, che per il terzo anno consecutivo è a Pesaro, questa volta però in concorso. A completare il cartellone abbiamo pensato di offrire, proprio in continuità con quello che dicevo prima, di un festival che vuole essere anche un'occasione di promozione del nostro territorio, una vetrina a Pesaro. Tre giorni in cui ci sarà il meglio della produzione teatrale locale, quindi Teatro Accademia, Teatro Piccola Ribalta, Teatro delle Ombre che presenteranno questi pagliacci, sette minuti la compagnia Teatro Piccola Ribalta e Godot il Teatro delle Ombre, quindi tre straordinari spettacoli prodotti dal territorio che così avranno modo di farsi conoscere anche dalla compagnia Ospetti a Pesaro.